uno degli aspetti fondamentali dell'accademy sono state proprio le relazioni infatti abbiamo potuto conoscere persone molto diverse tra loro sia per background ma anche per carattere e questo ci ha permesso di costruire dei team di lavoro molto eterogenei ma anche efficienti seppur l'aspetto professionale e quello personale sembrino così distanti tra loro sono stati entrambi motore di un percorso che ha permesso di acquisire ma anche di migliorare quelle che sono le skills qualificanti proprio per il mondo del lavoro infatti la vicinanza delle aziende partner ci ha donato la capacità di poter scegliere ma anche di poter organizzare al meglio quello che sarà il nostro prossimo futuro lavorativo che quindi alle porte